Ben ritrovati, c'è Benevento tra i capolughi di provincia che andranno al voto per le prossime amministrative, di questo parleremo oggi con Fernando Enrico che è il coordinatore provinciale di Forza Italia, una nomina arrivata da circa un mese. Intanto grazie per la sua disponibilità, il partito Forza Italia qui a Benevento e nel Sannio, come si sta preparando alle prossime amministrative? Ringrazio prima di tutto lei per la disponibilità che ci dà di essere presenti su Otto Channel. Forza Italia si sta riorganizzando, come lei ricordava io sono stato nominato da circa un mese e stiamo testendo e recuperando un po' i tanti amici, le tante intelligenze, le tante disponibilità che fanno riferimento al partito di Forza Italia, tentando di organizzarci sul territorio. Del resto si vota a Benevento, ma si vota anche in altri 22 comuni della provincia di Benevento, quindi devo dire una buona fetta di amministrazioni che vanno al voto. Benevento è una realtà particolare, è uno dei capoluoghi di provincia, il nostro obiettivo è di tentare di mettere insieme una coalizione di centrodestra che possa contrapporsi alla coalizione centrosinistra che viene da 10 anni di amministrazione della città di Benevento. Dovremmo essere capaci di approfittare delle divisioni che anche se tenute sotto traccia investono il partito che governa la città di Benevento, perché il governo della città di Benevento è ormai un governo monotratico attargato PD, quindi di conseguenza c'è questa condizione. Se mettiamo insieme tutte le forze, tutte le capacità, tutte le intelligenze, sono convinto che la partita si può giocare. Se andiamo divisi, chiaramente le divisioni non aiutano mai i percorsi. Dal punto di vista politico si discute a livello nazionale, all'interno di Forza Italia, della possibilità di rinunciare al simbolo e di puntare invece su liste civiche. a Benevento che cosa potrebbe accadere? Io sono convinto che il simbolo di Forza Italia è un simbolo importante, è un simbolo che è un punto di riferimento. C'è una discussione in atto all'interno del partito, ma io ritengo che per i capiologhi di provincia indubbiamente la presenza del simbolo è importante, è significativa e penso che dovrebbe esserci. Non ci sono le primarie, possiamo dire, nelle DNA del centrodestra, allora il candidato sindaco, il candidato vincente, come sarà individuato? Noi siamo convinti che bisogna mettere insieme prima la coalizione, fare un programma, scegliere delle priorità per la città di Benevento che indubbiamente presenta una serie di lacune, una serie di pecche che sono sotto gli occhi di tutti e poi insieme individuare la persona che può essere il punto più alto di riferimento della coalizione. Io sono convinto che è la coalizione che deve formarsi, perché se riusciamo a creare le condizioni per una coalizione forte, il candidato sindaco non può che trarne beneficio da questa impostazione. Già iniziato naturalmente il toto candidati, tra i nomi tirati in ballo ci sono anche quelli di personaggi autorevoli con un passato importante, mi riferisco ad esempio a Pasquale Viespoli oppure a Clemente Mastella. Il ricorso a questi nomi che cosa significa? Che manca una nuova classe dirigente? Io devo dire che ci sono nomi in campo, in effetti voglio dire autorevoli come lei giustamente sottolineava, Viespoli, Mastella, ci sono anche giovani che immaginano di poter candidarsi e mi riferisco a Gianfranco Ucci che già si è mosso in questo senso. Il centro-est dispone di tante intelligenze, bisogna soltanto mettersi insieme per fare sintesi, perché le divisioni non aiutano e lavorare nell'interesse esclusivo della città, perché questo è il problema vero. Noi abbiamo questa occasione storica che il sindaco uscente non può ricandidarsi. Leggo dai giornali che ci sarebbero le primarie all'interno del PD, primarie peraltro di partito, per cui questo avvalora l'idea che io ho, che praticamente è il monocolore PD, gli altri sono soltanto satelliti in effetti di questo partito, per cui oggettivamente l'idea che noi abbiamo è di lanciare un proclama ad unirsi, a mettersi insieme e in effetti per affrontare queste elezioni insieme, perché insieme noi possiamo addirittura giocare la partita. Benevento esce da 10 anni di amministrazione guidata dal centro-sinistra, qual è il bilancio che secondo lei restituisce il sindaco Pepe ai cittadini? Il bilancio è sotto gli occhi di tutti, basta leggere i commenti e dell'ultimo giorno, di qualche giorno fa, in effetti il gradimento dei sindaci Benevento, il sindaco di Benevento è al terzo e ultimo posto. Noi abbiamo la necessità di rilanciare fortemente la città di Benevento, nel passato sono state fatte diversi lanci di notizie per quanto riguarda il discorso prima di Ikea, poi del centro delle poste, a tutt'oggi vedo, per citare soltanto alcuni esempi che non si è realizzato nulla. Chiaramente viviamo e scontiamo una condizione di grande difficoltà all'interno del panorama politico-amministrativo, le difficoltà sono di natura fondamentalmente economico-finanziare, in quanto siamo passati da una legislazione in cui lo Stato concedeva ad un discorso di autofinanziamento in termini di imposizioni anche sul territorio con tributi e imposte. Devo dire questo perché indubbiamente c'è necessità anche di una gestione attenta ed oculata rispetto anche a degli investimenti che vanno fatti sul territorio. Oggi il cittadino deve sentirsi partecipe della gestione, secondo me il cittadino beneventano si è sentito distinto e distante da questa amministrazione. Tornando alle questioni politiche, alle scelte dei partiti, il centrodestra nel corso degli ultimi tempi ha perso prima l'appoggio dell'Udc alle ultime regionali e poi a quanto pare stavolta perderà anche il contributo del nuovo centrodestra, allora da dove si riparte secondo lei? Ma voglio dire il nuovo centrodestra che si allea col PD francamente presupporrebbe la necessità prima di tutto di un cambiamento di nome perché oggettivamente io non entro e ho fatto parte di quell'aggruppamento soprattutto per un rapporto di contiguità e di amicizia personale con l'onorevole De Girolamo, le mie perplessità esistevano prima e sono rimaste tutte. Oggi praticamente noi ripartiamo da quello che è il discorso all'interno del centrodestra, c'è Fratelli d'Italia, c'è questa formazione condivisa e messa su da Alemanno a cui visto anche in Campania hanno aderito o stanno per aderire anche altri autorevoli esponenti della destra, c'è il discorso tutto aperto anche di noi con Salvini che non bisogna in effetti assolutamente sottovalutare, poi c'è il movimento della società civile, delle liste di centro, il movimento civico, noi siamo fondamentalmente un popolo di moderati, dobbiamo avere la capacità di interpretare le richieste, le esigenze del popolo di moderati, se saremo capaci di determinare questo indubbiamente potremmo dire di aver fatto un grosso passo in avanti. Ecco lei ha vissuto battaglie importanti anche a livello regionale, come valuta questi primi mesi di governo di Palazzo Santa Lucia guidato dal governatore De Luca? Noi prima avevamo una trazione napolicentrica, adesso abbiamo una trazione salernocentrica per la verità, ho letto con attenzione l'ultima legge finanziaria che è poi l'elemento più qualificante, De Luca stanzia per 3 anni un milione e mezzo per il teatro di Salerno, noi abbiamo teatri in tutta i capoluoghi di provincia, non mi pare in effetti che sia stato dato analoga attenzione anche alle altre parti, alle altre città, dubbiamente questo non ci piace, non è una condizione in effetti che ci può far piacere perché c'è una visione strappica, prima c'era una visione orientata soprattutto su Napoli che indubbiamente è una città insieme alla provincia che conta 3 milioni di abitanti, oggi non vorrei che questa visione si sostituisse alla visione di guardare a Salerno, indubbiamente De Luca oggi non è più il sindaco di Salerno, è il presidente della regione Campania, la regione Campania deve avere attenzione e deve, è formata da tanti territori, Benevento è il più piccolo indubbiamente, ma abbiamo la dignità istituzionale di una giusta rappresentatività che nessuno ci può sottrarre. Intanto le zone interne vivono un momento particolarmente difficile sotto il profilo economico, anche il sannio dopo l'ultima alluvione naturalmente che ha determinato un notevole passo indietro, quale può essere a questo punto secondo lei il contributo della politica per consentire proprio alla provincia di Benevento di rialzarsi? Certamente non l'approvazione di ordini del giorno, gli ordini del giorno quando erano in consiglio regionale non si negavano a nessuno fondamentalmente, c'è bisogno invece di un intervento serio, non a parole, in termini concreti da parte dello Stato e da parte in effetti della stessa regione Campania. Noi oggi abbiamo delle realtà industriali che stendono a riprendersi non solo le medie e grosse industrie che ci sono in provincia di Benevento, ma anche le piccole attività artigianali che sono state distrutte in effetti dall'alluvione. Io ho visitato qualcuna di queste piccole realtà, l'ho fatto senza clamore, in maniera come ritengo sia giusto fare perché la solidarietà non si sbandiera, la solidarietà in effetti si manifesta, si dà in effetti in maniera, voglio dire, anche nascosta. Devo dire che il momento è un momento estremamente difficile, se dovesse saltare questo tessuto economico noi avremo un'ulteriore defaianza all'interno di questa nostra provincia in termini di rappresentazione di operai in cassa integrazione, di un indotto che avrebbe difficoltà in effetti in una provincia come lei giustamente ricordava che già ha grosse situazioni di disoccupazione. Il tema del lavoro è sotto gli occhi di tutti, la disoccupazione è purtroppo sotto gli occhi di tutti, in effetti il dramma vero che ogni famiglia vive e che purtroppo ci sono un giovane, un figlio che non riesce a lavorare, molto spesso sono anche i genitori che perdono il lavoro. Noi dobbiamo cercare di dare risposte in termini concreti, le risposte si danno dando un sostegno economico all'intervento che non deve essere un intervento singolo, ma deve essere un intervento in effetti giustamente a tappeto. Io devo dire che con molta positività ho riscontrato il discorso che è stato fatto sui social network a favore di qualche impresa che era stata danneggiata, che indubbiamente ha aiutato molto in effetti a creare le condizioni dopo l'alluvione per una ripresa anche nel termine di vendite, però noi abbiamo un tessuto economico finanziario che va supportato e non vedo in questo momento grossi interventi, vedo tante notizie, ma io mi auguro che le notizie poi seguano i fatti. Ci sono stati infatti tanti annunci negli ultimi tempi da parte del governatore De Luca sia in campagna elettorale, poi di recente è tornato anche nel sannio, le istanze che arrivano dal territorio, quali sono? Che cosa vi aspettate da questa nuova regione? Noi ci aspettiamo fondamentalmente attenzione e risposte a quelle che sono le problematiche in termini concreti. Un primo banco di prova sarà il discorso dell'accelerazione della spesa. Abbiamo ricevuto una lettera come sindaci di questo territorio da parte del Presidente De Luca in cui in maniera sintetica sottolinea che si farà carico anche rispetto alle scadenze di sostenere quelli che erano i progetti messi in campo. Questo è un primo banco di prova, così come ci aspettiamo in effetti anche i pagamenti per quelle situazioni che già si sono determinate. Ci dicono in regione che è soltanto un problema burocratico, mi auguro che sia così, perché effettivamente noi ci siamo mossi sulla base di decreti firmati dai funzionari regionali, non vorrei che questi decreti si trasformassero in carta straccia. Questo sarebbe la fine dell'istituzione regione. Per chiudere questa nostra intervista torniamo al tema delle amministrative alla città di Benevento, quale sarà la sfida di Forza Italia? Secondo lei, dottore Enrico, di quale sindaco ha bisogno in questa fase la città di Benevento? Di un sindaco che sia presente, di un sindaco che dialoghi con i cittadini, di un sindaco che abbia l'esperienza giusta, di un sindaco che possa dare un impulso vero a questa città. Questa città penso che abbia negli ultimi tempi, negli ultimi anni un po' dormito e quindi c'è bisogno di un risveglio forte e noi speriamo e stiamo lavorando per contribuire a fare questa cosa. Bene, grazie dottore Enrico per questa intervista. Grazie a lei, grazie a lei direttore.